Un gesto di grande solidarietà che si aggiunge ai precedenti messi in campo dal comitato Tutti per Guido. Stiamo parlando della biciclettata partita dalla stazione autolinea e sub di Clusone alla volta di Gazzaniga, per sottolineare anche economicamente la vicinanza a Guido Vanelli, 50enne di Clusone con la passione delle due ruote. Ed è stato proprio un sabato pomeriggio in sella a cambiare la sua vita. Una buca, la conseguente caduta e il risveglio in ospedale paralizzato dal collo in giù. Da quel giorno non ha tardato a farsi sentire la vicinanza della gente dell'alto piano di Clusone. Abbiamo pensato di aderire anche perché abbiamo accorto l'occasione anche appunto di conclusione di una stagione di un servizio, diciamo così, del sabbaic e quindi anche abbiamo approfittato di questa occasione e circostanza per vedere e poter organizzare un qualcosa dal punto di vista anche di sostegno economico o comunque di sensibilizzazione nei confronti di questa persona che è appunto nello spirito anche di una, diciamo così, di alcune iniziative che ha sempre, si è sempre dimostrata, partecipe e che in qualche modo anche negli anni passati in certe circostanze si è sempre ritenuta, diciamo così, direttamente coinvolta e sensibile anche a problemi legati a disagio o qualche vicenda legata a una vita più sfortunata delle persone. Come tutti sappiamo ha avuto questo brutto incidente proprio in bicicletta e allora per dargli una mano facciamo questa pedalata che è ristretta proprio solo ai dipendenti della sabba. È sempre un piacere andare in bicicletta, magari un po' meno, non faccio più tutti i chilometri di prima però mi diverto pedalando un po' meno agonisticamente ma proprio per divertimento. Ci siamo trovati in un gruppo di amici, non pensavamo in una risposta così. Dalla raviolata abbiamo avuto una grande collaborazione di tutti e i risultati si sono visti. Ci aspettavamo un numero di persone e ne sono arrivate più del doppio.